zona bersaglio claymore in posizione ora ragazzi la zona dove andiamo ora? gas in arrivo alla nuova zona sicura occhio Alicia dietro di te ah davvero? la porta la porta la porta e l'ho visto puoi rispondare? no? no no non posso mannaggia che palle c'è uno shop se vi serve c'è una stazione di acquisto stazione della mercata ah 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 e qui l'avano in qui? l'ho iniziato a tanto giro l'avano in qui vado no io l'ho in una laurea squalgina mi puntano ah c'è qui c'è qui sotto c'è lo shop scopritemi eh compritemi pronti alla ricognizione dell'area qui Jaguar 3-0 confermato battugliamento UAV iniziato guardi ha fatto rispondare? si ti ho fatto rispondare io sto subendo il fuoco ridico merda 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 un spazio non c'è sto per morire contratto annullato è finita non morire merda beccato in pieno restano meno di dieci nemici ah eh Alicia devi scendere te perché qui te è beccatino gas in arrivo chiedo un attacco a posizionata qui l'order 2-0 attacco a grappolo in corso ora non ho fatto più no uno l'ho buttato giù attacco a grappolo andiamo arrivare alla zona sicura uno è senza shield l'abbiamo vinto ragazzi in arrivo zona sicura riposizionata vittoria siiii grandi 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 fornai bucci papi bucci papi bucci papi via l'hai del fatto ha vinto ha fatto un tacco di chili questa partita ora lo salgo io devo fare guarda che non è stato il fatto che non è stato il fatto io sono un atteggiato che non è stato il fatto infatti gli atteggiati sono due anni che non è stato il fatto Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Quante kill si son fatte? No? Ora? 12 20 20 kill è tanta roba Stiamo fin